Anticipazione il segreto Lunedì 26 settembre 2016 Notando il forte disagio della sorella, Severo, che nel frattempo continuerà a tenere sulle spine donna Franziska, prometterà a Sol che d'ora in avanti eviterà di procurarle disagio ed apprensione. Prado riceverà nuove attenzioni da Sixto e a nulla varranno i sinceri avvertimenti di Matias. La Montenegro farà una ghiacciante scoperta. Santa Cruz ha acquistato tutti i suoi averi ad un prezzo stracciato. Ippolito, non potendo fare a meno di grazia, la implorerà di restare. Il Miranar non potrebbe sopportare di essere abbandonato una seconda volta. Lucas, notando i continui svenimenti di Ines, deciderà di studiare una terapia atta a salvarla. Bosco si insospettirà quando vedrà la sua amata priva di forze e pretenderà le dovute spiegazioni. La Montenegro farà è una terapia attenzioni di attenzione.